Ben ritrovati in diretta per una capitale che soffre, abbiamo parlato fino adesso, ce n'è per fortuna una che si candida ad ospitare tanti grandi eventi ed è quello di cui parliamo adesso, uno di questi grandi eventi da giovedì prossimo, giovedì 6 marzo fino a domenica 9 marzo la capitale si candida ad ospitare di nuovo il più grande evento del centro-sud Italia dedicato al tema delle due ruote, del motociclismo e non solo il Moto Days 2014, una Kermess romana giunta alla sesta edizione, visto grande successo di pubblico che c'è stato nelle scorse edizioni ci si attende ovviamente a una risposta importante da parte dei romani e non solo, anche in questa occasione vado ad elencare alcune delle iniziative che sono previste, presentazioni, spettacoli con stuntman e freestyler che si esibiranno negli spazi esterni, ospiti del mondo dello sport, dibattiti sul mondo della moto e dintorni, grande spazio per anche i giovanissimi col minicross, insomma tanti appuntamenti da non perdere dei quali parliamo, mi correggerà se ho detto qualche fesseria, Mauro Giustibelli, buonasera, ben trovato, general manager di Moto Days 2014, qui chiedo di illustrarci più nello specifico qual è il calendario di questo evento che Roma si candida ad ospitare. Hai detto benissimo, Moto Days è fondamentalmente una kermesse, vuole essere una kermesse sul mondo del motociclismo e quindi delle due ruote a motore. In questi anni abbiamo acquistato la fiducia di tutte le principali case, quest'anno raggiungiamo un po' l'obiettivo di averle praticamente tutte presenti, quindi abbiamo un'esposizione estremamente ricca, da cui abbiniamo da qualche anno oramai un'attività sulle aree esterne fondata sulle prove, sulla possibilità di provare, di salire sulle moto e di poter testare differenti modelli, ne avremo oltre un centinaio in prova. L'edizione interattiva, assolutamente sì, di questo ne andiamo fieri, è sicuramente un obiettivo centrato. E poi ovviamente cerchiamo sempre di dare spazio a tutti i vari ambiti, a tutti gli appassionati del mondo delle moto, insomma. C'è chi ama la moto storica, quindi abbiamo un padiglione dedicato a tutte le moto di una certa età, quest'anno ci dedicheremo in particolar modo alle special, quindi sarà possibile trovare queste special, queste fantastiche realizzazioni delle officine più importanti, nazionali e non, non solo nel padiglione dedicato al mondo custom, ma anche nel padiglione dedicato alle moto storiche. Ovviamente poi ci sono gli appassionati di turismo, chi ama passare i propri fini di settimana o magari le vacanze con le moto, quindi abbiamo tante diverse soluzioni, tante offerte per il moto turista, fino poi a chi ama ovviamente il mezzo a due ruote anche per la vita di tutti i giorni, quindi per andare a lavorare e magari a Moto Days approfitta per scegliersi lo scooter da dover cambiare, insomma. Dalla quotidianità, ecco, anche alla passione più così, anche alle cose più ricercate, no, che ruotano attorno al mondo del motociclismo, ora i numeri sono un boomerang spesso, però quando siamo sopra i 100 mila, insomma, possiamo anche dire che nelle scorse edizioni il Moto Days ha avuto un grande successo di pubblico, che immagino vi attendiate di replicare anche quest'anno? Sì, assolutamente, prima innanzitutto Roma nei primi anni del Salone, poi tutto il Centro-Sud ha risposto in maniera estremamente positiva, siamo arrivati quasi a sfiorare i 150 mila visitatori, insomma, quindi sono dei numeri purtroppo, per fortuna per noi e per la manifestazione, ma purtroppo per quelli che sono i dati di mercato in controtendenza appunto rispetto ai dati di mercato, che anche il 2013 si è chiuso purtroppo in maniera non estremamente positiva, anche il mercato delle due ruote a motore risente un po' di quella che è la crisi congiunturale della situazione economica complessiva. Non manca mai la passione, questa è la dimostrazione che poi non necessariamente un dato economico si riscontra con il dato sull'appassionato, sul consumatore, che comunque sia ama molto il mondo delle moto, in questo momento magari è costretto a dover rinunciare a delle opzioni d'acquisto. Novità nella formula, diciamo le cose nuove, quali sono rispetto all'ultima edizione, e ora per esempio dal mondo Ducati, ne cito una, arriverà una chicca per gli appassionati? Assolutamente sì, avremo una presentazione europea proprio il giorno di apertura, il 6 di marzo, il prossimo giovedì, Ducati ci riserva, come devo dire in passato altre case hanno fatto proprio questo onore, devo dire, e con Ducati non possiamo non menzionare la presenza di EBR, Eric Buell Racing, che in anteprima europea assoluta presentiamo con la nuova Superbike, dopo la presentazione avvenuta ai saloni americani, insomma. Questo è sicuramente un attestato di stima da parte delle case. Sicuramente, insomma, l'interattività è ovviamente una delle risorse di maggior fascino, no, della Kermess, perché poi è bello vedere, è bello discuterne, ma è bello anche provarle, poi, no? Questo è un po' un nostro punto di forza, devo dire. Ripeto, quest'anno arriviamo quasi a oltre le 100 moto in prova, ci piacerebbe poter dare ancora più spazio alle prove, ovviamente nei quattro giorni... E si fa quel che si può. Si fa quel che si può, effettivamente. Però avremo oltre otto marchi che presenteranno la propria gamma, quindi anche moto di assoluto prestigio e lignaggio, insomma, sarà possibile, saranno in prova, quindi... Come organizzazione avete fatto una scelta calibrata, diciamo, anche al tipo di pubblico che andrete ad ospitare per la maggior parte, quindi approfitto per chiederti se fra nord, centro e sud del paese ci sono delle differenze di gamma, anche di prodotti, apprezzate? Sì, diciamo, il centro-sud un po' esprime anche nel settore delle due ruote a motore le dinamiche che caratterizzano il nostro paese tra nord e centro-sud. Sicuramente la possibilità di spesa inferiore e questo vuol dire che ci si concentra su dei modelli che sono leggermente di... diciamo, non entry-level, ma sicuramente per noi, per il centro-sud, sono molto importanti, è molto importante tutta la gamma di prezzi medi. Roma è una città molto importante, quindi ha la capacità poi di esprimere dei valori importanti anche per quello che riguarda i top di gamma, oltre poi ad avere ovviamente un primato europeo assoluto per quello che riguarda i mezzi circolanti, è la prima città europea in senso assoluto per quello che riguarda l'utilizzo degli scooter. Se circolassero forse più due ruote che non quattro ruote, sarebbe meglio probabilmente anche per la vita di tutti noi, ma in generale possiamo dire che l'industria motociclistica italiana, insomma, grandi nomine, ne hai fatto qualcuno tu, ma insomma, li conosciamo, è ancora competitiva su scala internazionale? Assolutamente sì, è ancora un prestigio indiscutibile. Ovviamente ha dovuto trovare in questi anni delle nuove dinamiche. Ducati da un anno e mezzo è stata acquistata da un grande produttore di auto tedesco, Audi, quindi in queste rimane certamente il prestigio, la capacità industriale, la capacità di... l'ingegno, devo dire, la capacità progettuale dei nostri tecnici, e non a caso, insomma, i nostri tecnici sono presenti in moltissimi team, tanto in MotoGP quanto in Superbike, e ovviamente le aziende si stanno adeguando a quello che è un mercato globale, insomma, ma continuiamo ad avere marchi di assoluto prestigio, insomma, in Italia. Hai parlato, insomma, anche di competizioni importanti, con il MotoGP e la Superbike, ci sono tanti grandi nomi italiani, Valentino Rossi, Max Biaggi, Marche come Ducati, Aprilia, insomma, la gamma che fa riferimento direttamente o indirettamente al nostro paese, di nomi, di personalità, ma anche di prodotti, ovviamente, insomma, è chiaramente ancora di eccellenza. La visibilità però che dà, questa che è una punta dell'iceberg, del settore delle due ruote, è importante anche per la riuscita di manifestazioni come Moto Days? Assolutamente sì, diciamo, stiamo soffrendo un pochino la mancanza di un pilota di punta assoluta, insomma, in questo momento, in cui da un paio d'anni dominano obiettivamente gli spagnoli. Gli italiani vincono meno, insomma. Gli italiani vincono un pochino meno. Abbiamo tanti, tanti piloti che stanno, molto giovani, che stanno crescendo e stanno emergendo. Alcuni di questi, tra l'altro, Romani, faccio il nome di Davide Giuliano, ad esempio, che c'è sempre molto vicino, che effettivamente è un talento e che oramai è uno tra i piloti di punta del mondiale superbike. Insomma, come lui ci sono diversi piloti molto giovani. In questo momento scontiamo obiettivamente un po' la mancanza di un pilota di punta assoluta, di un campionissimo. Talmente ampio, abbiamo detto, il mondo delle due ruote, del motociclismo in generale, che si va dalla moto da collezione, dalla moto storica, allo scooter, che poi serve nella vita di tutti i giorni. Dal punto di vista della sicurezza stradale per le due ruote, come siamo messi in Italia rispetto all'Europa? Ma, diciamo, c'è sicuramente tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni dal Ministero dell'Interno, quindi dall'attività della Polizia Stradale, fino all'attività dell'Associazione Confindustriale di Riferimento, ANCMA, fino all'attività della stessa Federazione Motociclistica, sicuramente stanno portando dei risultati. Finalmente, sembra, abbiamo dei dati in leggero miglioramento per quello che riguarda le due ruote. Quello che va detto è che l'attività di sensibilizzazione deve proseguire sempre. Le due ruote predispongono fatalmente all'incidentalità stradale, anche per le persone più accorte, meno spericolate, che adottano tutte le procedure di sicurezza che è necessario adottare quando si sale in moto. Indubbiamente, oggi anche la tecnologia comincia ad aiutare il motociclista con nuove soluzioni. Credo che noi siamo sicuramente un popolo di motociclisti, siamo un popolo cui indubbiamente piace l'adrenalina, piace il gusto della velocità e su questo c'è un lavoro da fare sempre e comunque affinché questo venga tradotto soltanto in pista e non nelle strade. La sicurezza, però in generale, e qui parliamo anche di come le case, poi i costruttori realizzano i prodotti che anche voi presentate in questa edizione, la sicurezza è diventata uno di quegli elementi richiesti maggiormente dal pubblico al momento di acquistare un mezzo a due ruote? Assolutamente sì, devo dire che la tecnologia è cresciuta molto. Oggi l'ABS è diventata una normalità in senso assoluto, se pensiamo soltanto a 3-4 anni fa, ancora c'era chi aveva un'incertezza se prendere la moto con l'ABS o meno. Oggi l'ABS è un elemento presente, consolidato in maniera assoluta, così analogamente vale anche per tutti gli accessori, quindi salire in moto vuol dire anche dotarsi di una giacca adeguata, di un casco adeguato, di vestirlo nella maniera adeguata, di guanti, insomma tutto questo è fondamentale, tutto questo è sempre più richiesto dai motociclisti, sintomo proprio del fatto che questa attenzione, questo lavoro fatto dalle associazioni e dalle istituzioni sta dando i primi frutti. E anche tutto questo insieme di accessori di contorno, chiamiamoli così, sono ovviamente presenti al Moto Days, anche da quel punto di vista. Assolutamente sì, anzi sono forse l'elemento più apprezzato dai motociclisti, che vediamo uscire con giacche, tute, con scatole, assolutamente, quindi sicuramente sono molto apprezzati. Ecco, lasciami dire che forse sulla sicurezza ancora una nota, un appunto va riservato alle amministrazioni affinché sempre maggiore attenzione dedichino al problema della sicurezza. Quanto è successo a Roma non più di 20 giorni fa, di 3 settimane fa, ha determinato per i motociclisti veramente una situazione di estrema difficoltà, che è tale anche per gli automobilisti, ma insomma vivere la situazione che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo per chi è su uno scooter o su una moto, vuol dire veramente rischiare la vita. Riapriremo il capitolo di bilancio che abbiamo trattato di Roma fino a poco fa, insomma, perché il riferimento ovviamente anche a un manto stradale che in quasi tutte le zone, almeno di Roma, è davvero sconnesso. La sicurezza è anche il primo tema, l'approccio giusto per far avvicinare i giovani alle due ruote e qualche consiglio per avvicinare i giovani alle due ruote? Non parliamo solo ovviamente di doveri, ma parliamo anche di passione. Assolutamente sì, diciamo quantomeno il giovane, il ragazzo, il bambino, solitamente quello che è il primo approccio che ha col mondo delle due ruote è legato alla parte sportiva, quindi a quello che vede in tv alle gare. Questo vuol dire poi pensare subito ad educare, perché tradurre sempre quell'approccio adrenalinico su magari uno scooter, uno scooter 50, insomma a 14 anni sarebbe drammatico. In questo noi facciamo delle attività anche come salone, proprio dedicate ai ragazzi delle medie inferiori e superiori, proprio affinché comprendano che in realtà ci sono tutta una serie di accortezze da dover considerare, che magari con lo scooter non è lecito e non è opportuno andare in strada come vedano andare i campioni sui circuiti. Hai detto che siamo un popolo di motociclisti, in questo siamo anche per fortuna un popolo che ha regalato allo sport del motociclismo tanti grandi campioni. I giovanissimi, e questo l'avete potuto seguire ovviamente nell'evoluzione delle diverse edizioni del Moto Days, hanno ancora in Italia una forte passione per le due ruote? Sì, assolutamente sì, anche se devo dire che ci sono delle normative che non sempre facilitano l'accesso allo sport, alla disciplina sportiva. Effettivamente proprio durante la conferenza stampa di presentazione di Moto Days c'è stato un intervento di un notissimo team manager, un personaggio che ha fatto la storia del motociclismo italiano che rilevava come in realtà in Italia l'approccio alle piste non fosse possibile per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni. Questa è una problematico obiettiva perché i ragazzi poi per correre devono andare all'estero e quindi partecipano magari a campionati europei che non sono in Italia, insomma. Ecco, su questo sicuramente un intervento sarebbe auspicabile. Allora, la location è quella, non so se l'abbiamo ricordato, della nuova Fiera di Roma che speriamo sempre migliore, ma insomma una location che offre anche tanto spazio per le attività e per l'interattività di cui parlavamo. L'appuntamento Moto Days 2014, ricordalo tu? Da giovedì 6 a domenica 9 marzo, tutta la giornata e ovviamente aspettiamo tutti, appassionati di moto e non, perché è anche un'occasione per potersi avvicinare ad un mondo e per poter per lustrare un mondo che non si conosce, insomma. Per grandi e piccini. Assolutamente, assolutamente. Grazie Mauro Giustibelli, General Manager di Moto Days 2014, per essere stato con noi. Continuiamo, dopo la pubblicità, a parlare di sport e ci spostiamo in particolare al calcio con Paolo Colantoni, Calcio News e anche tutti gli aggiornamenti sulla gara in corso d'Europa League tra Ludo Goretz e Lazio. Tra poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.